Questa è la stradina che porta dall'aeroporto al villaggio di Babbo Natale. Ma questi frutti sono? Che frutti sono questi? Le bacche? Andiamo. E' un po' freddo. C'è vento e fa un po' freddo. E' il 4 ottobre. Mi sono messo la papalina perché è fredda la testa. Questa... c'è la strada qui principale che l'allunga. L'allunga per arrivare al villaggio di Babbo Natale. Qui invece ci mette un po' di meno. Cioè comunque questa qui va a incrociare con la testa principale. Io vado a sbucare su quella strada principale. L'arberia. Ci sono i fini. Ci sono i labeti. E questi sono... Non lo so cosa sono. Questa è in parte di vedersi qualcosa muove. Sparogli di qualche renno. Pieno da beti. Eh, betulle forse. So che le betulle... So che ci sono tante betulle in Finlandia. Saranno betulle quindi... Però...